Radio Bruno Allora, ciao ragazzi, sono contento che mi hanno invitato qua dopo un anno del primo luglio che è stata un'emozione incredibile, ma ci sarà anche stasera il ricordo e l'emozione intatta ancora. Io purtroppo non ho preso parte al tour, ma ho finito a Messina. Sono contento lo stesso, diciamo un po' meno, però ho sofferto comunque. Va bene, vi ringrazio, vi bacio tutti. Ciao bimbi!